Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e ben ritrovati a una nuova puntata di Turbo Day. Quest'oggi abbiamo visto le borse sostanzialmente in territorio invariato insomma con movimenti di entità modesta ma dobbiamo ricordarci di una cosa fondamentale questa è la settimana che porta al meeting della Fed e come sapete è una settimana che storicamente dà dei ritorni positivi sostanzialmente quando la Fed si riunisce generalmente nei giorni immediatamente successivi quindi il martedì e poi il mercoledì con effettivamente appunto quelle che sono le decisioni di politica monetaria le borse americane tendono ad apprezzarsi per tale ragione io ho cercato di andare su un titolo azionario e ho cercato di posizionarmi al rialzo tra l'altro all'interno di questo contesto troviamo un'azione che a mio avviso può avere una spinta rialzista nei prossimi giorni andiamo quindi sul grafico per vedere bene il titolo che ho selezionato per voi che nello specifico è Telecom Italia un titolo che è stato bistrattato che ha perso tanto negli ultimi anni e che non è mai stato alla ribalta tuttavia quello che vediamo nelle ultime settimane negli ultimi mesi sono dei minimi via via crescenti e dei massimi anch'essi appunto crescenti questo fa sì che ci troviamo in una situazione tale per cui ci possa essere una ripartenza potrebbero tornare i compratori su Telecom Italia e quindi quest'oggi dal momento che abbiamo comunque un'operazione aperta al ribasso sul Fuzzimib riteniamo possa essere interessante valutare di andare a comprare la debolezza vista in queste settimane sul titolo per cercare di andare a vedere se effettivamente verrà raggiunto un nuovo massimo da parte appunto della compagnia di telecomunicazioni quindi il trade che faremo oggi che è più di natura tecnica che di natura fondamentale va a prendere diciamo questi minimi via via crescenti e nell'attesa che possano esserci dei massimi crescenti in una continuazione di un trend rialzista come giustamente ci viene evidenziato dal grafico. Come possiamo fare quindi questo trade? Sostanzialmente possiamo andare sul sito di BNP Paribas andare che si chiama appunto investimenti.bnpparibas.it cliccare su certificati a leva e individuare attraverso il turbo certificate quello che è il prodotto che ci risulta essere più idoneo al momento ci sono 545 prodotti in quotazione ma noi ovviamente dovremmo andare a scegliere quello su Telecom Italia anche in questo caso l'offerta è piuttosto vasta tra l'altro appunto come potete notare appunto vi sono diversi prodotti con leve differenti io non voglio andare a espormi in maniera eccessiva quindi prenderò uno strumento con una leva abbastanza bassa 6,52 e nello specifico il certificato NL001503502. Ma andiamo subito in piattaforma per farvi vedere appunto come andare effettivamente a impostare questo questo trade quest'operazione quindi il certificato appunto è già stato selezionato lo vediamo qui andiamo a mettere il nostro ordine al sul prezzo denaro quindi ci mettiamo sostanzialmente molto molto in basso insomma su dei prezzi che sono migliorativi rispetto a quelli che abbiamo visto durante questa video analisi andiamo a cliccare su buy sostanzialmente il nostro ordine come potete notare si troverà all'interno appunto del buco di negoziazione abbiamo messo 17.000 pezzi che coprono circa il controvalore di un migliaio di euro con riferimento appunto ai certificati e quindi in azioni con una leva di 6 volte e mezzo circa 6.500 euro quindi andremo long di circa 6.500 euro di azioni Telecom Italia questa è l'operazione che abbiamo proposto per oggi adesso andiamo quindi a fare un recap della posizione vi do anche i livelli di stop e target l'ingresso lo facciamo a 0,37 centesimi per azione ovviamente in questo momento siamo leggermente sotto quindi ci siamo messi proprio in modo tale da farci colpire per entrare anche leggermente meglio lo stop loss lo mettiamo a 0,34 che è dove avete visto prima la linea rossa che è sotto diciamo i corpi delle candele precedenti per non mettere uno stop troppo distante il target price invece lo andiamo a mettere in prossimità dei massimi precedenti in area 0,42 i rapporti rischio rendimento su questa posizione non sono così favorevoli ma continuano ad essere comunque diciamo la distanza dal target price è superiore rispetto a quella dello stop loss ovviamente magari qualora dovessimo entrare in posizione cosa che io penso sia abbastanza probabile magari nei prossimi giorni comunque con il recap del venerdì andremo a magari sistemare un po' questi livelli da parte di Enrico Lanati è tutto anche per oggi io come sempre vi do appuntamento a domani